A te Giulia, buon pomeriggio. Sì, hai detto bene, sono tornati questi screening per la popolazione scolastica. Noi siamo in diretta qui alla stazione di Porta Nuova, che è il luogo deputato agli screening. Ma c'è il momento pausa, diciamo, stanno rientrando gli operatori perché c'è stata la pausa pranzo e quindi noi abbiamo approfittato prima che chiudesse la struttura per la pausa pranzo per realizzare la nostra intervista. Ma intanto vi dico già che sono predisposte qui all'interno dei locali della stazione di Porta Nuova cinque linee per lo screening rapido agli studenti delle scuole medie. Si parla di studenti delle scuole medie, di una paritaria e degli istituti comprensivi. Oggi sono stati effettuati 400 tamponi, questa mattina. Altri ne verranno effettuati nel pomeriggio. Si dovrebbe arrivare intorno a 2.000 oggi e 2.000 domani. Almeno quello è il numero delle prenotazioni. Poi vedremo chi si presenta effettivamente e chi no. Come dirà fra poco il maggiore della Polizia Municipale, Donatella di Persio, su 400 tamponi processati, tamponi rapidi processati, sono uno, anzi è uno, l'unico positivo ritrovato, rinvenuto. Tra l'altro bisognerà ovviamente procedere poi col tampone molecolare e accertare l'effettiva positività. Vi dico anche che ci sono operanti in questa struttura, tanti volontari. Ci sono una quindicina di medici e di operatori sanitari, quindi due e tre per ciascuna linea. Ripeto, sono cinque le linee. Ma poi ci sono tutti i volontari della protezione civile che coordinano sia gli ingressi per evitare gli assembramenti e anche svolgono parte della parte amministrativa. Quindi insomma nel complesso è una struttura che si fa e invita per il lavoro di circa 25 persone. E allora Gigliola, se hai altre domande rispondo. No no, fino a quando ci saranno gli screening tra la popolazione scolastica? Oggi e domani ragazzi delle medie, solo popolazione scolastica, non i loro accompagnatori o genitori. E si sta ragionando, qualcuno dice che è già sicuro per la prossima settimana gli studenti delle superiori, altri dicono che invece si sta ragionando. Comunque verosimilmente verranno effettuati gli screening sia per gli studenti delle superiori come anche per quelli elementari, appunto dei più piccolini, diciamo così. Oggi i ragazzi tutto sommato l'hanno vissuta come un'avventura, ne ho avvicinato qualcuno, non me li proponiamo perché sono minorenni, però tutto sommato come un'avventura. Chi diceva e pizzica un po', chi diceva beh l'ho già fatto con grande senso di navigatezza, ma insomma comunque l'hanno presa in maniera serena direi. Sì, abbiamo visto anche delle immagini che sono state girate da Diego Martelli, tu anticipavi una intervista che avete realizzato e quindi se la regia è pronta, quindi Roberto Cherchi se può mandare il contributo filmato, l'intervista realizzata da Marina Moretti. Sì, la maggiore donatella di Persi. Certo. Allora, sta andando bene, sono circa 2000 i prenotati, e ne sono stati già processati circa 400, ci siamo anche oggi pomeriggio, domani nella mattinata e nel pomeriggio, per cui quelli che si sono iscritti nella piattaforma o comunque quelli che accedono anche senza iscrizione, che rientrano nella fascia indicata, e possono procedere allo screening per monitorare anche appena riaperte le scuole un attimino qual è la situazione all'interno di queste comunità. I ragazzi naturalmente essendo minorenni vengono accompagnati dai genitori o comunque da qualcuno che li prende in carico, ma i testati sono solo i ragazzi? Sì, sì, i testati sono solo i ragazzi e diciamo che i dati sono buoni perché su circa 400 persone processate è uscito solo un caso positivo, per cui speriamo di mantenere questa media, anzi di migliorarla. Poi si proseguirà naturalmente nel pomeriggio e anche domani. Si sa già se verranno anche scrinati, passatemi il termine, i ragazzi delle scuole superiori? Allora, purtroppo nell'immediatezza noi lavoriamo programmando il tutto, ma comunque è la necessità che poi fa scaturire la priorità, per cui credo che verranno processati anche i ragazzi delle scuole superiori così come i ragazzi delle scuole elementari. Non mi sento di poter dire con certezza che verranno fatti la settimana prossima, ma comunque nel futuro più prossimo prenderemo in carico entrambe le fasce di età per vedere di monitorare come è stato questo rientro a scuola. E dunque Marina, come avevi già anticipato dal risultato dello screening di questa mattina, questo risultato fa ben sperare un solo positivo, ancora comunque da confermare dopo il test molecolare, insomma fa ben sperare. E poi nel pomeriggio, nel Tg8 del 19.30, ci fornirà i nuovi dati sui contagi, ci vuoi già anticipare dove ti recherai? Ma io già l'ho pensato dove mi recherò, però sarà un'assoluta sorpresa nell'ambito delle nostre location abituali, se mi permetti di girare la vorrei mantenerla tale, perché sempre che troviamo aperto il luogo in cui vogliamo andare, sarà come dire anche una vista spettacolare. Parliamo di cose serie, parliamo del Covid, però insomma poi ricordiamoci anche che le città, anche adesso sotto pandemia, offrono dei luoghi frequentabili in sicurezza e belli. Vedremo se ci riusciamo alle 7.30 a proporre, anzi al collega che sarà nel Tg, questa location. Io e Diego Martelli, per il momento è tutto da pescare. Grazie ad entrambi, buon lavoro.